ovviamente la vittoria della canzone del bambino è comunque un modo per dare un valore alla gara ma ovviamente tutti coloro che hanno cantato e che hanno partecipato anche Marco, la Giulia e l'Alice che non hanno cantato no, 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 no No Grazie a tutti. 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 Sagra di Teze su Brenta 2012. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Teze in festa. a tutti. a tutti.